buongiorno abbiamo appena finito la serie sulla meccanica quantistica e oggi cominciamo una serie nuova che riguarderà tutti i meccanismi che producono la luce non ne abbiamo uno solo si può fare luce in tanti modi diversi il primo abbastanza importante modo sono i cosiddetti salti quantici dell'elettrone dentro un atomo ma anche un elettrone singolo che viene accelerato produce luce un tipo di particolare di luce che vedremo è il laser e ne faremo la storia poi esamineremo il meccanismo più efficiente di tutti di fare la luce che è l'annichilazione tra materia e antimateria un altro tipo particolare di radiazione di cui avete sentito parlare sicuramente la radiazione di ho king che fa evaporare i buchi neri addirittura e poi la luce cerenkov che ha delle particolarità molto curiose ma cominciamo con i salti quantici questo è lo schema dei vari orbitali a differente energia degli elettroni in un atomo e abbiamo preso il più semplice l'atomo di idrogeno vedete che l'elettrone può essere in orbita ma soltanto in orbite ben definite ad una certa distanza fissa dal centro non può stare in mezzo quello che succede è che all'elettrone è concesso di fare un salto tra un'orbita e l'altra e quando lo fa andando verso orbite più interne deve perdere energia e questa energia viene emessa sotto forma di un quanto di luce e questo quanto di luce avrà un'energia a canù e quindi una frequenza che corrisponde al salto di energia tra i due orbitali ora il ci sono varie possibilità e una molto interessante perché produce fotoni nella luce visibile che quindi è quella che noi possiamo vedere con i nostri occhi e quindi la più studiata e la serie di balmer che si caratterizza perché l'orbita di arrivo è la seconda la seconda più vicino al nucleo quindi caratterizzata dal n indicatore di energia uguale a 2 quindi abbiamo che con il salto tra la terza orbita e la seconda abbiamo la produzione di un fotone dall'energia e dalla frequenza che corrisponde al rosso e si indica con la lettera h alfa h sta per idrogeno e alfa sta per questo tipo di transizione tra la terza orbita e la seconda poi vedete che abbiamo l'h beta che è il salto tra l'orbita 4 e l'orbita 2 e l'h gamma che è il salto tra l'orbita 5 e l'orbita 2 l'h gamma capita nel violetto ma è ancora visibile e la h beta capita nella regione azzurro blu del dello spettro ora un esempio cosmico diciamo dell'importanza di queste transizioni le abbiamo nelle nebulose che sono gli ammassi di gas che sono illuminati da delle stelle in formazione o penanate nel 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 loro centro la luce di queste stelle ionizza il gas circostante ionizzare vuol dire che un elettrone va via ma poi quando questo elettrone ritorna ad uno di questi nuclei lo fa perdendo energia e succede anche che fa la transizione tra l'orbita 3 e l'orbita 2 e quindi emette un fotone rosso come vediamo in questa fotografia della nebulosa california vediamo tutto questo gas rossiccio e tutto quello che vediamo è la calpa un altro esempio eclatante la nebulosa di orione abbiamo abbastanza vicino in cui si stanno formando le stelle la formazione delle stelle magari prende un po di tempo qualche milione d'anni però il milione d'anni è un periodo corto in astronomia ora dovete sapere che esiste anche il processo contrario cioè se abbiamo dei fotoni che arrivano su un atomo e questi fotoni sono di varie frequenze ci può essere il caso che una frequenza di queste corrisponda proprio al salto tra in questa volta un'orbita interna e un'orbita più esterna se arriva un fotone che ha l'energia proprio corrispondente specifica questo salto allora succede che l'elettrone lo assorbe e fa il salto in su si mette su un'orbita più esterna e quindi quello che succede che tutti gli altri passano ma quello che aveva l'energia giusta viene assorbito noi che guardiamo questa luce quindi vediamo una manco vediamo un deficit proprio in corrispondenza di una frequenza specifica che nella figura è proprio corrisponde a fotone giallo dovete sapere che quindi studiando questi fenomeni facendo lo spettro di queste sorgenti noi possiamo risalire agli elementi che hanno prodotto l'assorbimento perché ogni elemento fa delle righe molto specifiche come se fosse un codice a barre un esempio di applicazione di queste righe adesso di emissione poi vedremo quelle di assorbimento e nei quasar quando sono stati scoperti i quasar erano degli oggetti molto misteriosi perché nessuno aveva interpretato la origine delle righe molto grandi molto prominenti di emissione che si vedevano nel loro spettro ma che non corrispondevano sembrava niente di conosciuto poi arriva un olandese naturalizzato americano che è martin martin smith nel 1963 che ha il lampo di genio e dice ma ma no ma queste sono le righe normali prodotte dall'idrogeno quindi l'h alfa l'h beta l'h gamma come vedete qua solo che sono tutte spostate verso il rosso perché perché evidentemente questo oggetto è molto lontano e risente quindi dello spostamento verso il rosso cosmologico però lui sapeva che a quei tempi nel 1963 che uno spostamento che lo spostamento verso il rosso era proporzionale alla distanza più grande lo spostamento e più grande la distanza e lui aveva trovato il 16 per cento di spostamento che corrispondeva una distanza di un paio di miliardi di anni luce ecco che quindi scopre che questi quasar sono delle sorgenti molto lontane e quindi dalla potenza incredibile perché sono abbastanza ben visibili e quindi scopre una nuova categoria di oggetti della potenza incredibile un altro uso delle righe questa volta di assorbimento si fa quando si vuole scoprire un pianeta extrasolare come si fa si usa il fatto che il pianeta anche se abbastanza piccolo che orbita intorno alla stella influisce sul moto stesso della stella che è obbligata a essere per così dire in orbita intorno al pianeta solo che la massa della stella è molto più grande di quella del pianeta quindi il suo moto è molto ridotto e lento però se è materiale sulla superficie della stella che fa il suo codice a barre e noi lo osserviamo facendo tanti spettri nel tempo osserviamo che le righe si spostano si spostano quando la stella si avvicina le righe si spostano verso il blu per effetto doppler quando la stella invece si allontana le righe si spostano verso il rosso sempre per effetto doppler quindi studiando le righe di assorbimento e quanto tempo ci mettono a tornare a essere alla loro frequenza dove dovrebbero essere capiamo il periodo e possiamo risalire quindi a tante proprietà del sistema scoprire che lì c'è un pianeta ovviamente dovete avere uno strumento molto preciso perché le velocità in gioco sono piccoline per esempio la terra induce una moto del sole di circa 10 centimetri al secondo ecco che c'è bisogno di strumenti sofisticati come questo che si chiama espresso il nome vi dice che l'hanno fatto in italia infatti l'ha fatto il mio osservatorio quello di prera e l'osservatorio di trieste ed è montato in cile al dlt sul monte paranale e usa la luce dei quattro telescopi dlt collegati insieme per fare un sistema equivalente di un specchio perché il più grande del mondo di 16 metri di diametro è così preciso questo spettroscopio che potrebbe essere usato non solo per scoprire i pianeti anche a distanze ragguardevole dalla loro stella ma anche a studiare in trasmissione quello che succede nelle atmosfere dei pianeti stessi ecco con questo concludo la pillola e vi do appuntamento per la settimana prossima e arrivederci grazie